Era fatale che anche per lui, come per tutti i pensionati, scattasse la mortale trappola degli Hobbies. Primo, Hobbie di Fantozzi, l'aereomodellismo. Secondo, Hobbie di Fantozzi, il golf. Colpo mancato! Sì, insomma, mancato, amica. Che cosa ha combinato, su? Prendi la borsa. Io andrei. Terzo. Hobbie di Fantozzi, il ciclismo. Ingegnere, alla bersagliera! Alla bersagliera! Avanti! Avanti! Alla fine capì che l'unico hobby possibile per lui era il lavoro. Dunque, ispettore di zona, ti piace? Chiari, Ugo. Dunque, requisiti richiesti. Militesente, lo sono. Diplomato ragioniere, lo sono. Auto propria, ce l'ho. Ambisesso. Eh, sì, no? Certo, Ugo. Ambizioso carriera, lo sono. Massimo 35. Non lo so.